Porta sfiga Buona, questo mi piace Usiamo prima il commando Anzi, vediamo quante uccisioni devo... Quante coltellate servono per buttarne giù uno E vediamo Faffanbagno, c'è due Ok, non lo uso perché poi finisco ancora così Che palle, che sai che è questa sirena che senti? Io non ho sentito una sirena, io non ho dubbi Mai sentita durante, cioè quando giocava normalmente solo da play Ecco, anche adesso ti giri Ma vaffanculo Cristo canaro Sì, ma se poi Oddio No, no Madonna Che manca il gatto per coppa di quel trofeo che ho preso là in cima Caracca Mi dai la Wunderbuff, per favore 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 O la Rega, per favore Va bene, nello stesso Grazie, per favore Arrivederci Ciao, andiamo a aprire le porte Anzi Visto che tanto Non ho più la Quick Revive Mi compro la Speed Cola Mi compro la Speed Cola Ho detto Bravo Comprola Ma ce la fai a coltellare un cane Un cane Non dico 10.000 Un cane Vado ad attivare il secondo per il trasporto Sì, vabbè, guarda che arriva quel cane Anzi Qui, giusto? Sì Ok Salve, amico paffuto Ehi Come due cani Sto sempre solo Guardate, io passo di qua E lui Ah, che scende Thank you Perché non può scavalcare Entrare Dovrei aprire di lì Dovrei aprirmi Una Vabbè Dovrei aprirmi una Due Due porte Vabbè Ora torniamo prima di morire Vediamo che strategie potrei fare, va? Potrei Vediamo Vabbè dai Ti faccio girare un attimo Oh, cos'era Sto rumore Sto Vum Quella 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 è un cactus qua Un cactus Eh, ma da Ma che culo Che culo cambia Vai Non mi interessa che bonus è Se sono i doppi punti mi arrabbio però Ecco, te lo sapevo Carpenter Eh, madonna Cos'era Tutto addosso a me? Vorrei mettere alla luce una cosa che mi sembra un po' strana in questo gioco Ovvero Il fatto che Che ne so, allora In una normale Apocalisse zombie Uno dice Oh mio Dio, uno zombie E scappa No, no, no Qui C'è qua Apocalisse zombie Black Ops Oddio, uno zombie Tutti addosso Ebbene con la mazza A prendermi i punti Cioè Non lo so io Perché la docena Vedi che Giocavo in quattro persone Su Black Ops 2 In In pubblica Multiplayer Giocavo tranquillamente E se mi apre la porta Mi fa fuori, grazie Giocavo tranquillamente E E c'è la canzone Dice Vabbè Faccio veloce Giocavo tranquillamente E succede che Io non riuscivo a uccidere nessuno zombie Che ne uccidevano tutti gli altri Non è possibile Fa un modo di dire roba lì Vabbè ragazzi Adesso sto zitto E Ascoltiamo la Cazzo Sono un pirla Però vabbè Ok Vabbè 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 Grazie a tutti 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 Aspettiamo un attimo che è bella l'eclissi Aspettiamo un attimo che arrivi la cassa Dove cavolo sono? Ho sentito vicino Perfetto Nell'unico posto dove non volevo che andava Meglio aspetta E' la? Ah si pensavo fosse Oh Pensavo fosse Ciao Pensavo fosse lì 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 Vediamo 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 Volevo la Wunderwaff per quello Ma c'è almeno la Wunderwaff? Sì Non voglio questo Vabbè C'è la Wunderwaff? Perché non l'ho ancora vista nella scatola salire io Ah si si l'ho vista Eccola lì Ecco La Wunderwaff Vabbè però aspetta E' vero Vabbè proviamo a vedere Grazie